Siamo alla 34esima domanda del Catechismo di San Pio X. Nel segno della croce come esprimiamo noi i due misteri principali della fede? Nel segno della croce con le parole esprimiamo l'unità e la trinità di Dio e con la figura della croce la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Perché sempre nei sacramenti e nei sacramentali ci sono due componenti, la materia e la forma. Allora noi esprimiamo l'unità e la trinità di Dio con le parole, la forma, e la materia è proprio il gesto materiale, il segno di croce e quindi questo esprime la passione morte e risurrezione di Cristo. Invece con le parole esprimiamo l'unità e la trinità di Dio. È molto importante questo perché noi non dobbiamo trasformare la nostra religione in una cosa puramente intellettuale che non interessa niente se non ma quattro gnostici. La nostra fede è materia e forma. Nella comunione Dio ci ha dato da mangiare il suo corpo per ricevere corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore, non intellettualmente, certo anche quello è importante, ma attraverso il corpo. L'amore della mamma per il bambino attraverso che cosa passa? Solo attraverso l'intelletto? No, passa attraverso le carezze, la cura, lavarlo, dandogli il latte, con tutta una serie di gesti fisici che esprimono e realizzano l'amore. Noi non siamo puri spiriti e anche quando saremo in paradiso non saremo puri spiriti. Nel regno dei cieli noi non staremo solamente con il nostro spirito, noi risorgeremo con la nostra carne, avremo la nostra ciccia che sarà pienamente glorificata, pienamente spiritualizzata. Addirittura Gesù dice, quando gli offrono del vino dopo la sua resurrezione, dice di no, dice che lo berrà nuovo nel regno dei cieli e se lo beve lui ho motivo di immaginare che lo berremo anche noi, vino nuovo, un vino straordinario. Nella scrittura si dice che Dio prepara per noi un banchetto con cibi succulenti e vini prelibati. Allora c'è anche la dimensione materiale sia in questa terra che nella dimensione del paradiso che non bisogna escludere. Perché escludere? Non c'è motivo. E allora anche nell'esprimere la nostra fede noi dobbiamo usare la nostra ragione ma anche il nostro corpo. Allora unigesti. Nel segno della croce come esprimiamo noi i due misteri principali della fede? Nel segno della croce con le parole esprimiamo l'unità e la trinità di Dio e con la figura della croce la passione morte del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie a tutti.